Come da tradizione, ieri sera era la notte prima degli esami e gli studenti maturandi dell'Isis Valdarno, di San Giovanni Valdarno e dei licei Giovanni da San Giovanni si sono ritrovati in piazza Casprini dove hanno affisso a quelle che sono le recinzioni dello stadio Virgilio Fedini antistante appunto al plesso scolastico, le loro preghiere, le loro aspettative, le loro speranze anche in tono goliardico e con dei simpatici sfottò per ricordare appunto per sempre la loro notte prima degli esami Ciao Emma, allora sei la prima ad uscire qui a San Giovanni dai licei dopo la prima prova di questo esame di maturità, come è andata? Abbastanza bene, pensavo che andava peggio però è andata tutto a liscio diciamo Quale traccia hai scelto delle tante proposte? Ho scelto la traccia B1 dove veniva, cioè dove si richiedevano competenze sulla storia e sull'italiano e sulla riformulazione secondo anche i vari conflitti attuali Quindi un tema sulla guerra diciamo quello che hai fatto così E come è stato a parlarne da comunque ragazza molto giovane? È stato interessante e mi è piaciuto abbastanza Come è andata questa prima prova? Allora, molto semplice devo dire, pensavo molto peggio Alla fine i temi che abbiamo affrontato alla maturità sono diciamo anche quelli che comunque abbiamo fatto sia a scuola e comunque abbiamo ragionato insieme a tutti i ragazzi cercando di capire cosa ci potrebbe essere uscito poi alla maturità Quale traccia hai scelto? Libri e la parte digital comunque di diari Insomma, questione libri e digitale Quindi hai discusso il tema da sola senza che ci fossero troppe domande preimpostate da parte del ministero Giusto quella traccia lì? No, c'era solo da fare un discorso sulla logica comunque del discorso dei diari tecnologici comunque Adesso è peggio alle spalle oppure deve arrivare? Oddio domani ho diritto economia come seconda prova quindi direi un po' il peggio devo arrivare Poi per gli orari si vedrà In bocca al lupo allora grazie In bocca al lupo